Ciao a tutti ragazzi qui per la Normal Comics e benvenuti al 17esimo episodio di carriera allenatore con Leicester City. Oggi andremo a giocare due partite, la prima contro il West Ham, giocheremo in casa al King Power Stadium e poi inizierà il mercato di gennaio, ma tranquilli non faremo trattative perché giocheremo con il Middlesbrug praticamente il 2 di gennaio e arriveremo al 5, dall'1 al 5, non so quante trattative riusciremo a fare. Sarà un gennaio pieno di partite molto importanti, avremo un'andata e un ritorno di Coppa contro l'Arsenal una partita importante contro il Chelsea e poi penso che questa sia la FA Cup, infatti la FA Cup vorrei andare avanti è la Coppa nazionale più prestigiosa ovviamente oltre alla Premier, quindi abbiamo tante partite impegnative la prima sarà appunto questa con il West Ham che non so in realtà come sia posizionato in classifica non mi sembra fosse davvero messo molto bene, ok è decimo, decimo a 22 punti, noi abbiamo 37 punti abbiamo l'Everton dietro di noi a meno 2 e il Manchester United a meno 4, sopra di noi Liverpool a più 2 poi Tottenham a più 4 e Chelsea a più 5 ma con una partita in più di tutte le altre. Dunque, oggi andremo anche a fare comunque qualche trattativa, qualche giocatore lo cercheremo ma ragazzi io vi chiedo appunto di commentare qui sotto con i nomi che vorreste vedere nel lister andiamo un po' a analizzare prima di questa partita la rosa, allora diciamo che nei miei piani ci sarebbe di tenere sia Ziele sia Unana. In difesa Rietovald, De Litt, Morgan e Hutt secondo me vanno più che bene Hutt, sì, non è infortunato, ok. Sulla destra Isai e sulla sinistra Singreven direi che vanno benissimo quindi la difesa è completa. A centrocampo abbiamo due centrocampisti molto forti Tolisso e Saul ma se arriva un'offerta per Saul io sarei intenzionato a cederlo Marez vorrei venderlo per fare cassa e comprare un esterno magari più giovane, più promettente magari facendo appunto un po' di cassa. Sulla sinistra in realtà non abbiamo un vero proprio titolare perché c'è il Brighton infortunato, De Frel che spesso va a fare la punta come ala lì non è proprio adatto e Kapuzka comunque è ancora parecchio giovane e vorrei prendere un esterno là di spessore dunque consigliatemi per ora un esterno destro, un esterno sinistro e un centrocampista centrale in attacco Musa, sembra aver conquistato il cuore di tutti i tifosi, anche il mio cuore devo essere sincero perché sta facendo gol su gol quindi devo dare assolutamente fiducia al suo fianco Dolberg sembra essersi ripreso ma bisogna anche tenere in conto che in Pachina abbiamo Slimani infortunato e comunque con delle prestazioni che non mi soddisfano quindi vorrei comunque cederlo e un De Frel che non è proprio adatto a fare la punta quindi serviranno tanti rinforzi, serviranno anche tante cessioni per fare cassa io non so quanti milioni abbiamo, mi sembra pochi, abbiamo 5 milioni magari aggiustati un po' diventano, ma si 6 milioni praticamente quindi dobbiamo prima pensare un po' a qualche cessione, vado a mettere sul mercato qualche giocatore poi noi ci vediamo direttamente a King Power Stadium per Leicester City West Ham ed eccoci in campo ragazzi per Leicester City West Ham in diretta da King Power Stadium, siamo sotto la pioggia, clima di Inghilterra ed ecco che inizia il match, buona visione a tutti e mi raccomando forza Leicester anche quest'oggi attenzione subito all'occasione per Tolisso, palo è fuori, palo esterno subito un'occasione clamorosa per il Leicester City dopo 3 minuti di gioco il palo di Tolisso che poteva sinceramente tirare con il destro, mi sembra abbia tirato col sinistro oggi ho deciso di dare fiducia a Kapuzka e per il resto abbiamo praticamente tutti i titolari in campo attacco a due con Musa Dolberg, i due attaccanti che più ci stanno sorprendendo quelli che stanno ottenendo le prestazioni migliori, soprattutto Hamed Musa è diventato titolare inamovibile la difesa è la solita con il nuovo innesto di Riedeval che sta iniziando a macinare buone partite e buoni risultati quindi decidiamo di dare un po' di fiducia e poi De Litt che come vedete qui è sempre più il nostro top player in difesa attenzione, qui Riedevald fatto sul posto, mamma mia quindi anche Onana poteva fare molto, anche se il tiro mi è sembrato abbastanza centrale ma molto potente, poi più che un rigore in movimento ha tirato da 2 cm, beh Onana si poteva fare di più anche perché la stava anche per parare esulta l'allenatore avversario ha segnato 8 ore 1-0 per il West Ham, beh brutto inizio ma dobbiamo cercare di riprenderci perché eravamo partiti benissimo, stavamo tenendo noi il palino del gioco attenzione ad Antonio, Onana che cacchio di uscita fai ma che uscita fai mamma mia, no ragazzi no, no non ci sto a perdere 2-0 in casa con West Ham non è possibile perdere 2-0 in casa con West Ham dai, significa proprio che tutto ciò di buono che abbiamo visto il 5-0 lo stoke, le vittorie in Champions cioè non contano nulla perché poi quando servono i coglioni ragazzi sì, quando servono i coglioni noi non li abbiamo 85esimo qui Marez o la mette dentro e la riapre oppure mi sa che è veramente finita io nei piedi di Riyad Marez ci credo no, che ha parato no, che ha parato dovevo farla un po' più nell'angolino ma che ha parato ragazzi dopo lo andiamo pure a rivedere se mi ricordo mamma mia che ha parato nel frattempo concentriamoci perché non è ancora finita non è mai finita fin quando l'arbitro non fischia questa dovrà essere la nostra mentalità per le prossime partite Ahmed Musa palla per Saul Saul è passato e poi viene fermato perdiamo 2-0 contro il West Ham e fa male fa molto male ora subito alla prossima partita la dirigenza ci dice che non siamo in corsa con gli obiettivi aumenta il valore dei due giocatori del Vivaio di almeno 10 punti ma io il Vivaio non l'ho neanche iniziato il Champions Cup abbiamo fatto qualificati per l'Europa League più o meno ci stiamo riuscendo i quarti del FA Cup lo dobbiamo appunto vedere che cosa volete? Boh, non lo so informazioni sul mercato Unana ci ringrazia Unana però non mi dà le prestazioni di zieler quindi io dovrò vedere ragazzi io sto pensando una cosa vorrei rendere questa carriera il più diciamo realistica possibile e vorrei cercare se sarà possibile di trasferirsi diciamo di trasferire il nostro allenatore su qualche altra panchina io vado a vedere un po' se ci sono per caso degli incarichi allora abbiamo incarichi una marea di incarichi però non ci sono incarichi italiani mi spiego meglio vorrei davvero cambiare squadra non so se fare un'intera stagione oppure metà stagione perché ora mi sta girando in testa quest'idea la mia idea numero uno sarebbe ovviamente il Napoli perché vorrei comunque fare una vera carriera col Napoli è pure vero che non ho tutto il tempo del mondo quindi servirebbe una squadra già molto ma molto pronta e vedo vedo nomi importanti ragazzi i dononi importanti e magari vi metterò uno stropol qui sotto anche se poi questo episodio non so quando uscirà perché non sto pre-registrando parecchi e rischio che arrivo praticamente a fine a fine giorni disponibili come vi avrò già detto tra poco tra pochissimo parto nel frattempo facciamo questi allenamenti poi vediamo ragazzi se avremo la possibilità di andare a allenare una squadra tra Juventus e Napoli per diciamo tra virgolette riprendere quella carriera che abbiamo stoppato sia con Napoli sia con la Juventus sarebbe molto ma molto bello non ci sono novità dunque noi procediamo contro il Midgesburg comunque andiamo a giocare poi vediamo pensiamo un po' cosa fare se andare via oppure rimanere io però darò un attimo a rivedere sempre gli incarichi sarebbe bellissimo trovare qualche incarico italiano ma per ora ah sono arrivati ora gli incarichi dalla Francia abbiamo il Lione il Monaco il Nizza e il PSG il PSG sarebbe molto ma molto bello però sarebbe anche molto complicato comprare comprare l'unico obiettivo che davvero vorrei prendere che è Neymar tra l'altro probabilmente avrete già visto il primo episodio della carriera giocatore con Neymar spero che vi sia piaciuto non lo so ragazzi non so perché sarebbe bello da un lato andare in qualche squadra davvero piena piena di soldi per fare un mercato di gennaio importante di spessore non ho mai fatto una carriera col City con lo United neanche ho fatto una carriera fatta per bene mi ispirerebbe moltissimo il Tottenham però non vedo Kane non so ragazzi direi che andiamo a giocare questa partita col Middlesbrough e poi prenderemo una decisione che ovviamente potrà cambiare anche nei prossimi episodi ma vorrei cercare di decidere velocemente nel frattempo noto che l'Everton ha perso pareggiato non so comunque lo United è a meno 1 l'Everton è a meno 1 abbiamo però il Liverpool a più 3 il Tottenham a più 5 e il Chelsea a più 5 la vetta non è così lontana ma il sesto il settimo posto diciamo sono lì che ci spaventano in realtà sono le prime serie che sono un blocco unico compatto e poi sotto abbiamo tutte le altre noi ci vediamo in campo per il secondo match dell'episodio ospiti in casa del Middlesbrough ok ragazzi avrete visto che non siamo in campo perché passato un po' di tempo ho ragionato un attimo sul da farsi diciamo e comunque ho pensato che questa carriera è una carriera con il Leicester in Champions League avremo molta difficoltà ragazzi vincere la Champions ragazzi impossibile vincere la Champions con Leicester anche per il campionato avremo molta difficoltà io sinceramente starei pensato di cambiare squadra da subito così che possiamo fare una sola stagione perché una sola stagione penso di riuscire a fare dato che vi ripeto ancora tra dieci giorni parto torno praticamente a fine agosto inizio settembre inizio settembre bisognerà iniziare a studiare inizio settembre poi si inizierà a parlare di FIFA della demo quindi non avremo tempo per fare un'intera seconda stagione io quindi penso di simulare contro il Middlesbrough e vedere un po' gli incarichi davvero sono tantissime squadre che ci cercano io non vorrei restare in Premier League perché non vorrei appunto affrontare tra l'altro passano niente i motorini non vorrei affrontare il l'Ester City con la nuova squadra quindi vado un attimo a simulare vedo un po' quale squadre potremmo potremmo andare ad allenare ecco ragazzi gli incarichi italiani è un po' strana questa cosa di incarichi diciamo vanno un po' a nazioni e l'Inghilterra diciamo è la nazione base poi cambia ho visto appunto passare dalla Francia alla Spagna all'Italia abbiamo visto anche squadre tedesche allora andiamo un po' a vedere la situazione l'Inter l'Inter è quarto Juventus prima Lazio terza Milan sesto Napoli secondo molto bene e Roma quinta addirittura così bassa Roma Fiorentina settima anche l'Arsenal 12esimo sarebbe un bel progetto da andare a prendere ma come vi ho detto non vorrei restare ancora in Inghilterra mi dispiacerebbe troppo affrontare il mio Leicester allora prendere la Juventus sarebbe una cosa un po' troppo semplice secondo me anche perché poi giochiamo già con la carriera con Buffon quindi diciamo non vorrei fare due carriere con la stessa squadra l'Inter non mi ispira tantissimo devo essere sincero non mi ispira anche se è quarto abbiamo la Lazio terza che sarebbe un bel progetto ma non mi sembra giochi coppe europee ragazzi io vado a vedere un attimo il Napoli come è messo in Champions League e penso che andiamo a firmare con il Napoli spero per la vostra gioia questa carriera con l'Aster non ho visto tantissimo supporto anche se ci ha fatto appassionare almeno il pubblico di nicchia l'ho visto spesso appassionato quindi per tutti quelli che hanno seguito questa carriera con l'Aster io vi ringrazio enormemente e spero che possiate diciamo amare e apprezzare allo stesso modo il progetto che sto per proporvi con il Napoli e mi era rimasto un po' l'amore in bocca per non aver finito quella carriera Napoli che affronterà ragazzi il Real Madrid dobbiamo aiutare il Napoli dobbiamo aiutare il Napoli in questa impresa impossibile io accetto oddio accetto io mi propongo al Napoli spero davvero che loro decidano di prenderci abbiamo dei soldi da parte ma non sono tantissimi spero siano davvero tutti quelli abbiamo una squadra che comunque sappiamo tutti quanto sia forte abbiamo anche nel nostro Leicester un giocatore che abbiamo per il quale rubato al Napoli ovvero Isai che magari proveremo a riprendere e ragazzi io faccio la domanda per l'incarico al Napoli perché sinceramente questa carriera con Leicester per carità mi ha dato tante emozioni mi ha fatto divertire ha fatto divertire anche voi ma vorrei un progetto un po' più ambizioso diciamo che può essere anche un po' realistica diciamo la situazione tra l'altro ragazzi qui c'è un'offerta per Isai che se andiamo a vendere al Manchester City non avremo poi la possibilità di riprendere dunque io non metto proprio le mani rifiuto solo l'offerta ma rifiuto anche quella per Drinkwater non voglio appunto entrare nelle nelle discussioni della dirigenza perché non ci interesseranno più tra qualche giorno almeno ragazzi lo spero lo spero tantissimo che il Napoli accetti la nostra tra virgolette proposta andiamo a vedere un po' il Napoli accetta dunque prenderemo 55.000 sterline perché abbiamo messo l'esterline alla settimana siamo secondi in campionato potremmo forse sognare anche lo scudetto siamo gli ottavi di Champions proprio con il Real Madrid proprio come nella realtà io accetto il Napoli e spero ragazzi davvero che questa scelta possa piacervi possa stuzzicare appunto il vostro interesse verso questa carriera magari per tutti quelli che non l'hanno seguita perché l'esterno è una squadra che vi ha fatto appassionare abbastanza io vi chiedo di seguire allora questa con il Napoli anche se ti fate Juve se ti fate Roma ragazzi ve lo sapete sto portando la carriera con Buffon proprio per cercare di equilibrare probabilmente l'anno prossimo porterò una carriera con ogni squadra d'Italia tra le più forti diciamo così da accontentare da accontentare tutte le richieste ed eccoci pronti siamo a meno 6 dalla Juventus l'Inter e la Lazio sono a meno 1 la Roma è a meno 4 è una classifica bella Mertens 12 gol dunque abbiamo Mertens molto frizzante direi 4-4-2 ah no questo questo è il 4-3-3 base ok quello era diciamo il nostro vecchio schema e andiamo un po' a vedere la rosa ovviamente in 6 mesi non sarà cambiato tanto Reina tra i pali Albiol e Kulibali sui lati Strinic e Maggio entrambi da cedere entrambi da cambiare assolutamente centrocampo Amsic 86 ragazzi molto bene Giorginio 83 Alan 81 attacco Kayon Mertens in segna in panchina qualche nuovo acquisto ragazzi Klasen e Schmeichel mamma mia ragazzi Klasen lo vado subito a mettere al posto di Alan ci ragionano magari un attimo comunque vedo che c'è anche Goulam in panchina e direi che è meglio di Strinic abbiamo una bella squadra su cui lavorare abbiamo una bellissima squadra su cui lavorare ragazzi Schmeichel sicuramente va a prendere il posto di Reina almeno momentaneamente poi vedremo Schmeichel è un grandissimo portiere era il nostro ex portiere e ragazzi mamma mia fa un po' fa un po' impressione questo nuovo progetto io ora in questi due giorni vado a fare un po' di richieste però dato che comunque l'episodio sta durando tanto direi che che giochiamo abbiamo giocato solo quella partita con Leicester dal prossimo episodio ci concentriremo con il Napoli ragazzi sono emozionatissimo anche perché avremo un gennaio pieno di partite importanti poi da febbraio inizieranno le partite di Champions e c'è tanto hype c'è tanta emozione Napoli che sta facendo una bella stagione noi andiamo a fare qualche ricerca abbiamo tantissimi ragazzi tantissimi soldi abbiamo tantissimi soldi 37 milioni più o meno andiamo un po' a cercare qualche giocatore il primo nome che mi è venuto in mente per il terzino destro è Dani Alves che ha fatto delle dichiarazioni recentemente dicendo che il gioco della Juve non gli piaceva quindi noi andiamo a fare un'offerta di 10 milioni alla Juventus vediamo un po' cosa ci dicono ok ragazzi qui c'è la notizia che Casper Schmeichel non è felice vuole cambiare squadra vuole parlare e poi abbiamo fatto una richiesta rapida per Beglierin comunque dobbiamo trovare un terzino destro ma con calma abbiamo quasi tutto gennaio abbiamo tanti episodi prossimi per divertirci ragazzi sono davvero emozionatissimo per questo nuovo progetto vedo già 63 milioni dal Barcellona per Ericsson sono sicuro che questo nuovo progetto possa intrigarvi possa interessarvi ragazzi se è così lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo in un prossimo video